Sono romano e romanista, quindi continuare qua nel club che mi ha cresciuto è un onore. La maglia della Roma per me è una seconda pelle. La indosso da quando ho quattro anni, anche per indossarla tutte le domeniche. Per me è grande soddisfazione. Io vivo per la Roma, vivo per questa maglia. Un anno e mezzo, questa maglia è la mia prima maglia. Per me la Roma è un club che aiuta i giovani. Mi hanno aiutato tanto, non solo a me, ma anche a tutti gli altri. Tipo Roma da quando sono bambino. Sono entrato a Trivalli all'età di 13 anni. La maglia della Roma è la base più importante che penso che c'è. Per me indossare la maglia della Roma è stupendo. Io non ero romanista, ovviamente, ma quando vieni qui ti fa come commuoverti quando vai alle stadie. È una maglia che pesa. Sono un ragazzo romano, quindi per me Roma è casa. Per me la città significa sopra di tutto una casa. È la città eterna. Fai un passo c'è una cosa bella, fai un altro passo è tutto storico. È una città incredibile. Roma è la città più bella del mondo e forse non smetterò mai di dirlo.